Oggi gli chef si misureranno in una competizione per realizzare dei piatti completamente gluten free. È una cucina che chiaramente è attenzionata a molto di più in questo periodo perché chiaramente la celiachia è un disturbo che è stato approfondito soltanto negli ultimi decenni. Si va a valorizzare, a portare avanti questo Q&P che è un po' nascosto alla gente di uscire fuori casa, che possono andare tranquillamente nei ristoranti e nella ristorazione a mangiare senza problemi. Perché molta gente, molti operatori sono già qualificati e si stanno ancora continuando a qualificare. Solitamente noi cerchiamo di fare un'alimentazione quasi comparata all'alimentazione che noi facciamo ai nostri clienti. cercando di non far capire e distinguere le due diverse pietanze tra gli altri commensali. Dunque, metterli allo stesso livello e non metterli neanche in disagio all'interno proprio di un contesto, di un evento, di un manchetto. Le cucine che devono operare per quanto riguarda la preparazione di pasti gluten free devono essere degli ambienti totalmente separati dagli ambienti della cucina classica. Recentemente la celiachia è uno degli argomenti più diffusi, si sono creati gruppi sui social network. Ecco quanto la diffusione di questa notizia poi ha facilitato anche il riconoscimento della stessa. L'impatto mediatico è fondamentale. Io per questo ringrazio l'AIC per il supporto che sta dando questa nostra terza manifestazione. Gela diventa la capitale del discorso sulle celiachie e del gluten free non a caso. È un percorso che stiamo portando avanti proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma soprattutto gli operatori della ristorazione su questo tema. Sui social il confronto è sempre molto vivo. Cioè, chi soffre di questo disturbo si confronta con gli altri, chiede informazioni. Questo è anche molto importante per non sentirsi in un certo senso isolati. L'isolamento c'è ed esiste perché non tutti i ristoranti, ad esempio, hanno la possibilità di offrire un percorso gluten free. Cosa significa percorso gluten free? Dall'aperitivo al dolce, esteticamente e cromaticamente, lo stesso percorso degli altri. È chiaro che il tam-tam mediatico ha scatenato una sensibilità diversa e mi auguro che continua a crescere. Assessore, dedicare una giornata a chi soffre del disturbo di celiachia è importante per il principio nobile dell'inclusione, anche quando si sta a tavola? Ma è importante anche per effettuare una formazione nei confronti dei ristoratori gelesi, della collettività nostra sul tema della celiachia, che ancora oggi non è molto compresa tra i ristoratori locali.